Il giocatore E' la palla che finisce alle spalle di Szczesny La prima occasione che hanno avuto E' andata in vantaggio la Lazio all'undicesimo minuto Azione ora al pallone verso Lulic Largo a sinistra Rudiger Lo va a chiudere adesso Ancora Lulic Rossi in area di Tacco De Rossi Pallone ora per basta Il tiro al gol La deviazione Sul tiro di basta Un pallone sporco E il gol viene dato a lui però Al quarto minuto del secondo tempo Basta che non ha mai segnato una Lazio Pensate l'ultimo gol che ha segnato Basta L'aveva segnato la Roma Quando stava con l'unica Ludinese Al quarto minuto il gol di Basta Il tiro è stato deviato Ma il gol viene dato chiaramente a lui Basta al limite dell'area di rigore Riparte Lulic Tocchio per Felipe Anderson Attenzione al tocco rovo per Lulic Occhio in due contro uno Attenzione qua Lulic si invola verso l'area di rigore Si allarga Keita Ancora Lulic Il tocco è per Keita Il tiro al gol E finiva Al trentanoesimo E il terzo gol Gol di Keita